Valotation Valotation Ehi amore mio non capisco perché Cerco per le ferie un posto al mare non c'è Svalutation Svalutation Con il salario di un mese compri solo un caffè Gli stati sono greviti ma la grana dov'è? Svalutation 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 Ma siamo in crisi ma Senza andare in là L'America è qua In automobili e a destra da trett'anni si va Ora contromano vanno in tanti si sa Che scontration Che scontration Con la nuova banca dei sequestri che c'è Ditemi il valore della vita quant'è Svalutation Svalutation Ehi amore mio non capisco perché Tu vuoi fare incallo poi fai l'uovo con me Svalutation 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 Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è Si vive più di armi che di pane perché Assassination 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 Svalutation Ma questa Italia qua Se lo vuole sa Che ce la farà E il sistema c'è Quando pensi a te Pensa Anche un po' per me Che ce la farà Grazie a tutti.